Pioggia, qui la pioggia cambia il colore della città, davvero, è tutto un colore diverso, ogni cosa è grigia, è smorta, come se improvvisamente... Il Campania Teatro Festival continua a produrre emozioni attraverso spettacoli, prime assolute e le suggestioni del teatro. La rassegna, diretta per il quinto anno consecutivo da Ruggero Cappuccio e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, continua a mietere successi serata dopo serata, promuovendo non solo lo spettacolo, ma anche il territorio campano, con le bellezze paesaggistiche e architettoniche della costa e dell'entroterra. Nella splendida cornice della reggia Capodimonte è andato in scena Il Sogno Reale, un progetto di Ruggero Cappuccio a cura di Marco Perillo, dedicato interamente alle meraviglie dell'epoca borbonica. Sette racconti, scritti da sette autori esclusivamente per il Campania Teatro Festival, raccontano di personaggi e storie legate ai luoghi e all'epoca borbonica. Questi personaggi, con i loro intrecci e le loro vite, sono stati interpretati e raccontati da attori del calibro di Lina Sastri e Iaia Forte. Questo è un racconto ambientato in un quotidiano presente, napoletano, dove c'è molto spunto intorno alla villa versiliana. È un presente quotidiano di adesso, racconto di una ragazzina che in qualche modo si trova poi in vacanza da una zia e si ritrova poi a conoscere una ragazza più o meno della sua età o un po' più grande di lei che le racconta della storia di una, diciamo, mantenuta del re. Ecco, no? Ecco, quindi, più che regine immaginari, mi sembra che sia un racconto immaginario su queste regine. I borboni ci sono, ma aleggiano molto poco in questo racconto, credo. Ho sempre desiderato fare un lavoro su Sandro Penna, che è un poeta che mi piace molto e quindi sono grata a Silvio Perrella di avermi dato quest'occasione. Ho costruito una drammaturgia che prevede anche alcune prose della raccolta un po' di febbre e delle interviste fatte, tipo, da un settimanale, da epoca ho inserito anche altri materiali perché le poesie di Penna sono molto brevi e quindi fare un resta al solo di poesia era un po' complicato, sono quasi degli epigrammi. Sono felice di dare voce a questo grande poeta che è anche un po' dimenticato, per cui penso sia doveroso restituirgli, insomma, dargli voce.